L'economia torna a expandere Witch Matching, il B2B di Compagnia delle Opere è arrivato alla sua quarta edizione in Capitanato, l'appuntamento è per il 20 giugno prossimo presso il grande hotel Vignanocelli di Lucera, questa mattina la conferenza stampa di presentazione, vediamo. Torna a expandere Witch Matching, il consueto appuntamento delle imprese che vogliono fare rete organizzato alla Compagnia delle Opere, un'idea pensata per offrire alle imprese del territorio un'occasione di incontro e di scambio in cui i protagonisti siano gli stessi imprenditori, ogni azienda ha il suo desk dove ospita i suoi interlocutori, scelti attraverso l'analisi del company profile, la descrizione del proprio progetto di sviluppo, il cosa cerco, il cosa offro. 150 le aziende coinvolte, 9 aree tematiche, 1000 incontri, questi i numeri dell'edizione 2012 di expandere, la quarta del format nato a Foggia e diffusosi rapidamente in tutta Italia, ma expandere non esaurisce la sua funzione col prossimo evento, il 20 giugno. La community di expandere è ormai partecipata da imprenditori di tutta Italia perché l'evento è entrato a far parte di un network di eventi locali che quest'anno prevede 12 appuntamenti nelle diverse regioni italiane, convolgendo oltre 26 di CDO. Quest'anno inoltre l'evento foggiano si inserisce nella rete degli appuntamenti promosso dall'European Small and Medium Size Enterprises Week, un programma promosso dall'Unione Europea per supportare le piccole e medie imprese in tutta Europa. Il successo di expandere è tutto ranchiuso nel concetto di incontro, come spiega il presidente provinciale di CDO Foggia, Luigi Angelillis. L'incontro comunque tra imprenditori, quindi tra le persone degli imprenditori. Perché è importante l'incontro? Perché normalmente nella natura umana, anche quindi dell'imprenditore, la possibilità di conoscere si ha sempre nell'incontro. Noi nasciamo da una mamma che ci introduce alla vita, poi abbiamo gli amici, abbiamo i compagni di scuola, anche per l'impresa. Incontrare il mercato, cioè incontrare altri colleghi, diventa certamente la possibilità di conoscere il mercato, ma conoscendo anche sé, perché nel paragone con un altro uno ha più coscienza di sé. E questo è il primo valore aggiunto di espandere, quindi la possibilità che gli imprenditori riescono ad essere più coscienti della propria impresa.